e bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video in questo video qua farò vedervi come riscattare questa bellissima skin che è la skin del batman corazzato quindi questa nuova versione di batman che non sarà un nuovo stile ma sarà appunto una skin a parte è molto semplice dovete avere tutti e sei i fumetti di fortnite quindi batman fortnite.0 1 2 3 4 5 e 6 e vi riscattate tutti i codici vi lascio in descrizione tutti i link dei video poi dopo quando andrete a riscattare l'ultimo codice appunto potrete ottenere questa skin del batman corazzato i codici li potete riscattare molto semplicemente andando su sito microsoft o su microsoft dg o su google chrome o su google e andando qua sulla sezione riscatta la tua ricompensa e inserite i codici dei fumetti comunque lo vedrete molto meglio in tutti i video dei in tutti e sei i video per come riscattare tutte e sei le ricompense vabbè da me è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video condividete il video a tutti i vostri amici per far sapere di questo a tutti i vostri amici sarei per il link in descrizione andate a seguire su tutti i miei altri social e chi vuole donarmi io sono molto contento e andate a sentire le mie canzoni che ho fatto, quelle ho fatte l'anno scorso per una versione speciale quelle ho fatto quest'anno migliori amici che a 1500 visualizzazioni e 75 like farò una nuova canzone vabbè da me è tutto ci vediamo in un prossimo video e bella